Buongiorno a tutti, do il benvenuto a chi già è in collegamento, tra qualche minuto e inizieremo con la relatrice di quest'oggi, Ottavia Ricci, il nostro webinar sull'anno europeo del patrimonio culturale, come promuovere l'experience dell'Italia dei bordi e delle mille destinazioni. Vorrei accertarmi che tutti quanti voi, almeno facendo un sondaggio a campione, ascoltate e vedete correttamente me e la relatrice.